Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Radio Odessa collegato con me proprio da Odessa lo sapete c'è Ugo Poletti che è il nostro corrispondente direttore dell'Odessa Journal. Buongiorno Ugo. Buongiorno a tutti. Allora io anziché chiederti come stai parlerei delle notizie diciamo abbiamo una lunga pagina militare oggi poi e questo la dice lunga sullo stato dell'arte una piccolissima pagina diplomatica e la pagina militare la cominciò diciamo da quello che ti riguarda anche più da vicino come cronista cioè dal Mar Nero Odessa si affaccia sul Mar Nero abbiamo visto le immagini c'è stata questa lunga sequenza pubblicata di cui ci sono occupati tutti i media del mondo dei droni ucraini però intercettati che avrebbero dovuto colpire la flotta russa sul Mar Nero. Cominciamo da qui. Ma gli ucraini hanno annunciato già diversi mesi fa che avevano costruito un'armata di droni sappiamo i droni quanto sono diventati importanti in questa guerra anzi è la prima guerra in cui hanno un ruolo così rilevante non solo da un punto di vista di perlustrazione ricognizione cioè scoprire dove sono le truppe del nemico studiare i movimenti ma anche di attacco perché la tecnologia avanza le guerre poi avanza molto rapidamente e questi attacchi ai droni questi attacchi alle navi russe che si sono rivelate molto vulnerabili in questa guerra sono diciamo la risposta ucraina ai bombardamenti russi cioè anche loro tengono sotto pressione il nemico con i droni è molto difficile danneggiare una nave perché portano un carico esposivo molto 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 basso però sono una minaccia che mette in difficoltà il sistema difensivo russo mostra la sua vulnerabilità quindi comunque un drone che passa è una brutta notizia e mette in agitazione non solo i militari ma anche i civili che sono in crimea quindi è una mossa anche da un punto di vista di comunicazione molto 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 importante senti sono comparsi sulla scena militare insomma quelli che sono stati chiamati i partigiani russi che hanno colpito in territorio russo belgorod la zona di belgorod che insomma per chi non ha presente poi noi la mostriamo ovviamente sempre le cartine per farci capire e diciamo vicino al confine territorio russo vicino al confine con l'ucraina a est poco sopra dal Donbass a est se non sbaglio non troppo lontano da Kharkiv correggimi se mi sbaglio però ecco questi partigiani russi che sono entrati in funzione lì con degli attentati che sarebbero stati tutti catturati e uccisi sono entrati in scena per la prima volta c'è russi che combattono i russi è una novità in questo conflitto no? No allora non è una novità ed è importante cercare di distinguere perché esistono probabilmente tre tipologie di partigiani allora quelli di cui si sa di più sono i disertori dei soldati russi che hanno chiesto agli ucraini di combattere per loro cioè ci sono c'è è stata creata una brigata chiamata russia libera è assolutamente allineata insieme a altre brigate internazionali sapete che combattono come volontari e privati americani sudamericani brasiliani e diversi europei li hanno ragionati in delle brigate c'è anche quella dei russi inizialmente erano molto perplessi gli ucraini ma quando hanno visto che c'erano dei russi che dicevano guardate fa schifo Putin vogliamo combatterlo ha detto beh questa è un'occasione d'oro e sono diciamo diretti però da ufficiali ucraini però esistono e questa è la prima ed è probabilmente sono questi che hanno oltrepassato il confine di belgorod tra belgorod e kharkiv come tu giustamente detto e il che li mette in una posizione interessante perché non sono teoricamente ucraini che invadono la russia ma sono russi stessi cittadini russi che entrano nel territorio come dissidenti in verità vanno segnalate altre due formazioni c'è una sorta di unità unità non è unità è un'organizzazione politica anche questa si chiama russia libera qualcosa e non si sa molto di questa si conosce il suo leader che è un dissidente russo e che addirittura quando ci fu l'attentato alla duvina disse sono stato io cioè c'è stato qualcuno che ha rivendicato quell'attentato e sono anche questi un partito di russi indipendenti dissidenti e poi c'è una misteriosa resistenza di cui non si sa neanche qui molto però sicuramente esiste perché la russia è da un anno costellata di attentati a depositi a ferrovie a carburante munizioni e non possono essere tutte diciamo azioni del del servizio segreto ucraino c'è qualcuno su territorio russo che sta lavorando contro gli stessi russi ecco queste sono le tre cose questo attacco non ha avuto un grande rilevo militare ma sicuramente ha avuto un grande rilievo mediatico e soprattutto ha messo in grandissimo imbarazzo i russi perché uno gli dice scusa voi vi siete super difesi creando trince creando protezioni facendo vedere che nessuno riuscirà mai a oltrepassare la vostra linea di difesa questi arrivano al primo tentativo arrivano vicino a belgorod e che significa che la tanto conclamata forza di difesa russa è molto fallace però vulnerabile ecco però scusa mi vorrei agganciare a questo perché fuori una domanda insomma che non volevo fare perché abbiamo parlato tante volte invece adesso ti chiederò di bakhmut quasi tutti certo tutte le puntate di radio testa torniamo su queste mitologiche o queste mitologiche controoffensiva e di chi è perché tu hai ben spiegato anche per motivi diciamo meteorologici stagionali non poteva che avvenire ora dopo il disgelo diciamo è la fine del fango causato dal disgelo ma oggi tutti i giornali italiani riportano per esempio anche il Corriere della Sera c'è una pagina intera di tutti gli scenari difensivi dei russi no come si sono organizzati e come dovrebbe fare Kiev per superare questi diciamo queste difese attrezzate nei territori già occupati e c'è anche il dubbio sembra ci fosse una voce oggi sempre riportata dal Corriere della sera da parte dei vertici militari ucraini di avere le forze sufficienti ad affrontare queste difese qual è lo stato dell'arte ma è lo stato dell'arte è quello che non dimentichiamoci che il confine diciamo la lunghezza del del fronte è notevole è come l'intera estensione del Giappone o la distanza se vogliamo tra tra Londra e Madrid mi sembra che abbiano calcolato in questa lunghezza di fronte si fronteggono in entrabbe le parti circa 300 mila uomini e significa che non riesci a allora nei tempi della seconda guerra mondiale ci sarebbe ci sarebbe stato qualcosa come due milioni di uomini rischierati sono molto pochi per riuscire a riempire ogni spazio significa che ci possono essere chilometri in cui ci trovi soltanto 500 uomini a difesa ecco qual è il problema cioè non ci sono abbastanza uomini da creare queste queste difese tipo trincee della prima guerra mondiale dove ogni trincea era piena di soldati ecco perché i russi hanno fatto tante trincee perché le prime servono per capire dove stanno attaccando i nemici cioè gli ucraini e loro sperano di avere muovendo le truppe alle spalle di andare a riempire le seconde le terze linee per contrastarli per contenerli però e sarà facile per gli ucraini trovare qualche punto debole poi bisogna vedere gli sviluppi mi colpisce questa estensione chilometrica non l'ho calcolata ma insomma a occhio quindi partirebbe da poco vicino ad andrebbe a finire fino a confine est è così grande tutto il donbass e tutta la zona dell'ugans diciamo che il confine sulla mappa l'ucraina è il più grosso paese che c'è il più grosso paese d'europa tenete presente che sarebbe come la germania e la francia sommati insieme e immaginiamoci quindi una specie di un confine che prende per la metà questa lunghezza come se fosse mezza germania quindi sembra sulla mappa che non ce ne si rende conto ma il numero di soldati sul campo da entrambe le parti l'unico vantaggio che hanno sia russi che ucraini e che parte di questo fronte è il fiume denier perché è molto largo quindi sulle rive del denier ci sono pochi soldati e per fortuna per i russi gli ucraini non hanno mezzi da sbarco quindi non possono attraversare facilmente attraversare i fiumi è molto difficile quindi il fronte in verità è la metà di quello diciamo necessario per i prossimi attacchi però comunque sia aspettiamoci delle novità aspettiamoci delle sorprese non è una guerra come la seconda prima guerra mondiale ferma non è non sarà ferma ecco bakhmut di cui abbiamo parlato tante volte l'abbiamo detto un centro non importante in sé però in un posto nevralgico una grande battaglia lunghissima che è diventata forse per entrambe le forze una battaglia simbolica questa settimana i russi hanno detto di averla conquistata gli ucraini avete conquistato solo un cumulo di macerie senza se qualcun significato per noi e poi ha parlato brigoci però di brigoci cioè il capo delle brigade wagner ne parliamo fra un secondo parliamo prima della situazione di bakhmut ma diciamo che ormai questo capitolo è considerato chiuso nel senso che i russi hanno portato dopo dieci mesi di combattimenti e al calcolo totale dieci mesi di combattimento un piccolo trofeo ma è un trofeo molto piccolo insomma un trofeo diciamo bruciato se vogliamo a putin ecco abbiamo una mappa mappa geografica c'è una località dove possiamo mettere la bandiera russa bene peccato che ci avevano raccontato almeno sei mesi fa che quella era una conquista preliminare di passaggio per conquistare il resto il resto è tutto il resto del donbass naturalmente oggi i russi devono fermare perché hanno avuto perdite pazzesche molte di più di quelle ucraine e quindi ormai hanno possono cantare se vogliamo vittoria ma in verità adesso sono in difesa infatti gli ucraine hanno iniziato già a contrattaccare ai lati di questa città e paradossalmente se si dovessero se dovessero entrare più in profondità dai lati della città russi dovrebbero scappare per non farsi circondare ecco però in questo momento la situazione è abbastanza di stallo non certo allora e pregoci però il capo delle brigate Wagner i mercenari cattivi mercenari tra virgolette certo al servizio dell'esercito russo continua a mandare messaggi tu nella scorsa puntata sei stato illuminante ci ha detto che fondo pregoci ha delle aspirazioni politiche riassumo io è per chi non ha seguito l'altra puntata fate male che dovete seguire radio d'essa che poi viene da noi internet viene dato a tutto il network delle televisioni di italpress all'agenzia di stampa perché è un impegno importante dal punto di vista etico deontologico giornalistico di un'agenzia di stampa nazionale italiana al di là di me e di ugo che lo incarniamo però insomma ci dicevi che era nella rosa dei possibili probabili candidati alla successione di Putin no ora però senza spingerci troppo oltre questo pregoci continua a dare dei messaggi strani da un lato dice no attenzione non dite che noi siamo in difficoltà arruoliamo 10.000 persone al mese dall'altro critica i vertici russi anche i vertici militari che sembra degli incompetenti insomma che gioco sta facendo questo pregoci ma certamente lui si sta qualificando come leader vero dell'orgoglio russo delle di quelli che vogliono una russa vittoriosa e aggressiva e ha passato i mesi discorsi l'abbiamo visto nel cercare di delegittimare gli altri leader e di mettersi lui in luce dicendo io sono l'unico che combatte che salva l'onore ho perso molti uomini ma purtroppo non è colpa mia se non vinciamo è colpa dell'eserito russo che è mal gestito e mal governato la cosa molto interessante però di pregoci in che adesso ha fatto una scelta molto diciamo sconcertante cioè fino a ieri tutta la propaganda russa tendeva a minimizzare i successi ucraini e a massimizzare quelli russi e a cercare di mettere dei dubbi su quello che invece è un andamento catastrofico della guerra per la russia invece putin putin pregoci scusate ha deciso invece di fare una sorta di operazione verità cioè lui ha detto signori se noi volevamo smilitarizzare l'ucraina ci abbiamo attaccato per neutralizzare rischi militari che l'ucraina potesse dare verso la russa adesso abbiamo ottenuto l'effetto contrario e questa guerra in verità ha aiutato gli ucraini a militarizzarsi cioè a diventare non soltanto più esperti nell'arte militare cioè se l'esercito ucraino prima di questa invasione aveva pochi uomini esperti di combattimento adesso tutto l'esercito ucraino ha una grandissima esperienza di combattimento questo è innegabile quindi l'abbiamo potenziato e poi tutti gli aiuti militari dell'ovest hanno aiutato gli ucraini a essere uno degli eserciti più agguerriti potenti del mondo quindi noi russi attaccando abbiamo ottenuto l'effetto contrario e questa è un'affermazione che se l'avessimo detto a noi avremmo trovato gli opinioni che russi contro di noi ma se lì c'è Prigojin ormai questa cosa non si può più nascondere questo è molto rilevante insieme al fatto che lui ha detto anche ammettiamo siamo entrati in ucraina per uccidere i nazisti cercavamo nazisti di fatto abbiamo colpito tutti gli ucraini che non trovano per strada anche questa è una missione abbiamo ucciso un sacco di gente che non erano di fatto nazisti ecco queste cose qua mostrano che non si può più nascondere la sconfitta diciamo strategica della russia non ancora militare non ancora politica ma certamente strategica e questo è molto utile per noi insomma ci torneremo sopra su questa strana figura di questo Prigojin che insomma che un po' è il cantore della propaganda russa un po' è anche il distruttore della propaganda russa non si capisce esatto con quale fine però guarda il tempo è quello abbiamo finito di solito noi siamo puntuali ma ti faccio due domande e veloci nella speranza di diciamo di cogliere il segno non avevamo parlato diciamo in questi giorni prima di preparare la nostra puntata ma perché poi gli italiani alla fine destreranno o no i piloti ucraini per gli F-16 non si è capito poi hanno detto di sì poi hanno detto di no qual è il problema ma il problema è che come alleati nato dobbiamo fare anche nella nostra parte e io so dai dati che girano che l'Italia non è uno dei più grossi diciamo contributori di questa guerra fa il suo compitino ma in fondo stanno facendo molto di più altri paesi europei i distensi tedeschi e soprattutto gli inglesi quindi l'Italia comunque il compitino deve farlo credo che le addestreremo probabilmente come abbiamo fatto altre volte lo faremo senza dare notizie alla stampa però è logico che se noi non possiamo offrire aerei perché non li abbiamo però abbiamo sicuramente la tecnologia gli istruttori per poter aiutare questo processo. Senti notizie sugli accordi del grano più diciamo autentiche visto che vengono da te da Odessa? Sì beh l'accordo del grano ogni volta che questo accordo viene rinnovato di volta in volta cioè normalmente ogni quattro mesi e ogni volta che si avvicina al rinnovo inizia una negoziazione durissima dove i russi sempre minacciano di far saltare il tavolo quest'ultima volta infatti hanno rinnovato solo per due mesi perché questa cosa è rilevante? perché chi è proprietario di navi o chi deve fare carichi ha bisogno di un sacco di tempo per organizzare trasporti, viaggi e tutto quanto quindi due mesi sono molto pochi. Perché i russi hanno fatto questo dispetto? Perché i russi stanno spingendo per vedere riconosciuta la riapertura di un oleodotto dove si porta dal centro della Russia, dalla città di Togliatti vi ricordate il leader comunista a cui hanno dedicato una città Togliatti dove c'era l'astrabilimento della Fiat di fatto e questa città però ha la più grossa azienda di produzione di ammoniaca che attraverso questo oleodotto arriva a Odessa però questo oleodotto naturalmente è chiuso da quando c'è la guerra. Qual è il problema? Il problema è che i russi non riescono più a vendere tutto il gas che esce fuori dai loro giacimenti il gas che esce dai giacimenti non può essere immagazzinato, viene bruciato sapete quando si fa un buco in un giacimento di gas il gas esce fuori da solo per la pressione il buco non lo puoi più chiudere allora o quel gas lo vendi e i russi non riescono a venderlo o quel gas lo fai diventare liquido, liquefare il gas ci vogliono degli impianti speciali e i russi non ce li hanno la terza possibilità è di trasformarlo in ammoniaca l'ammoniaca sarebbe i fertilizzanti la Russia era prima della guerra il più grosso esportatore mondiale di fertilizzanti e la metà di questa esportazione passava a Odessa ecco il trucco, ecco il retroscena gli ucraini non vogliono mollare perché chiaramente i russi hanno disperatamente bisogno di usare questo gas ed esportarlo sotto forma di ammoniaca e quindi stanno minacciando gli ucraini di far saltare anche le loro esportazioni di cereali stanno negoziando per un accordo forse gli ucraini concederanno ai russi di riaprire questo elodotto in cambio i russi concederanno agli ucraini magari di riaprire un altro porto perché per ora usano solo tre porti ucraini potrebbero usare anche quello di Nikolaev che è molto importante grazie, allora abbiamo esaurito il nostro tempo storie e altri particolari ti rimandiamo alla prossima settimana tanto penso che saranno ancora attuali ti ringrazio, ringraziamo Ugo Poletti da Odessa direttore dell'Odessa Journal io ringrazio voi che ci avete seguito e vi do appuntamento al prossimo giovedì alla prossima puntata di Radio Odessa Arrivederci Arrivederci